Salve ragazzi, eccoci qui nel nostro nuovo episodio su The Sims 3 Vita Universitaria Ci troviamo a Bridgeport E siamo appena tornati dalla nostra ultima sessione Siamo finalmente laureati, abbiamo una laurea Come possiamo vedere con un bel 10 in belle arti Però ciò che volevo dirvi Che durante un bug, cioè il bug Naturalmente non abbiamo ricevuto un altro tratto Che è quello quando ricevi la laurea Quindi abbiamo solo un sesto per il gruppo sociale E non abbiamo il settimo per la laurea È un piccolissimo bug Niente, cioè è importante però fa niente per il momento Ok, volevo cominciare Prima cosa, dobbiamo inviare un curriculum Per il nostro lavoro Che naturalmente Entreremo in cinematografia Ok, inviamolo Ok, posti disponibili Assistente personale Naturalmente in cinema Quello che prenderemo Vediamo anche che c'è Assaggiatore di ingredienti Oppure responsabile del gruppo musicale E noi entreremo in quello là del cinema Perché vogliamo diventare a livello 10 Quindi accettiamo la carriera Naturalmente Adesso vi farò vedere La nostra carriera è già lì Di cinema livello 4 E dovremmo diventare Nel tempo dei Un po' celebrità Ok Quindi dovremmo conoscerne un paio Cosa c'è uscito scritto Impressionare tiara angelista Ok La conosciamo questa tiara? Dove sta? Ah eccola qui Uh, livello 2 addirittura Eeeh Facciamo inviare un sms amichevole Vediamo un po' cosa succede Eeeh Perché se la invito Di sicuro Non verrà per questo Però proviamoci Dai Invita Vediamo se verrà Eeeh Scusa ma Non mi va di venire da te Ok Eeeh Invita a uscire Eeeh Una meta Ok Eeeh Daeeh Eeeh Uggi va bene Ok Vediamo se vuole venire Dobbiamo impressionarle In qualche modo Ops Dov'è il nostro segno? Ah Eeeh In questo momento Mi sembra incomprensibile Andare a qualsiasi parte con te Eeeh Come la facciamo a conoscere? Cioè Dove sta Questa tiara? Mmm Area sportiva di bridgeport Magari dobbiamo cominciare A frequentare Eeeh Andiamo tipo da Euji Ok Vediamo di conoscere Qualche celebrità Questa tiara Sembra fa Molto La difficile Con noi Ok Prendi la metropolitana Eeeh Dirigiti A Comentando Ah vabbè Ho cercato la soglia Eeeh Questo posto Deve essere Molto affollato Ieri Oggi la fessa Da qualche altra parte Perché? Non è Un posto Gradito Ok Retron King È appena andato in osteria Ok Vediamo se Ci fanno entrare Senza problemi Intanto facciamo Megafono No Eeeh Cambi abito Mettiamo Formali Poi prendiamo L'ascensore Andiamo Al piano Meno uno Si sviluppa Verso il basso Eh oggi Vediamo se ci sono Delle star Non vedo nessuno Da questa parte Uh Tiara Ah l'abbiamo trovata La nostra Tiara Angelista E facciamo Proprio Impressione Però non c'è Impressione Ok Facciamo saluto Ok Ecco il nostro sim Che è appena entrato Con i suoi vestiti Bellissimi Eleganti Uh È molto emozionato Come vediamo È naturalmente Ah Amichevole Chiacchiera Uh Naturalmente Essendo il nostro capo Riusciamo Senza problemi A parlare con lei Wow Allora possiamo fare Tipo Congratulazioni Per la laurea Amichevole Che è della laurea Prima ci facciamo Le congratulazioni Visione di stelle Per aver visto Una celebrità Sì ma anche noi Vogliamo diventare Una celebrità Eh ok Dobbiamo entrare Un po' Nella sua vita Allora Salta a nuova casa Amichevole Richiama I ricordi Della vita Universitaria Eh Chiedi Alma master Ah Una laurea In tecnologia Ok Parla del nuovo lavoro Allora Il nostro capo Se non lo sa lei Chi deve saperlo Oh possiamo fare Una fusione mentale Eh Guadagnare una stella Di celebrità È quello che vogliamo fare E conoscere questa tiara Sarebbe molto importante Romantico Che di sei single Se non mi sbaglio Non dovrebbe essere sposato Questa tiara Ok Acceleriamo anche E' appena Ok L'università dei sim È stata Naturalmente Quella è l'università Bevande economiche Iniziato L'hp hour Ok E' Holdi una bevanda Converso con il mixologo Paga un giro di bevande No Sì Conoscente Niente ancora Eh Relogia e abilità Di giocatore Uh Ed ecco qui La fusione mentale Vediamo cosa siamo riusciti Ad ottenere Ehm Non ho scoperto nulla Di nuovo Peccato Amichevole Entusiasmati Per gli albi Affumetti Mutare senza vestiti Con un anti-arra Ok Ah Nessun partner Perfetto Eh Condividi un segreto Ok Eh Speciale Sbagliazione geniale Topo da biblioteca Amichevole Chiacchiera Perché non riusciamo Ok Complimenta Voglio farla diventare amica Il mio colore preferito È verde acido Wow Ehm Complimenti per Chiara Per la sua laurea Intanto Undici ore Tutto ruota Intorno a me Per il tratto Socievole Che abbiamo preso È una Bel po' Eccoci qui Prima stela di celebrità Per l'amicizia Io a questo punto Entrerei anche un po' più romantico Con lei Bere una bevanda E' ciò che vogliamo fare Ok Romantico Dai fiori Bianco puro Ok Happy Hour È finito Vediamo se li accetta Uh Di sicuro sono ben accettati E Romantico Bacia per impulso del momento Vediamo un po' Come la prenderà la nostra Nostro capo Diciamo Ok L'ha presa molto bene Quindi Potremmo Baccia amorevolmente Speciale Inguaribile Romantico E Vogliamo naturalmente Fidanzarci Con questa Donna Tanto anche noi Due stelle Già in città Correvoce Che Riton King Stia attirando l'interesse Di molte In virtù delle sue recenti Attività È naturale Già Stiamo Facendo conquiste Massaggia Massaggia Bacia dimigamente Vediamo cosa c'è anche Altro Scatta una foto romantica Un po' Speciale Inguaribile romantico E Carezza la guancia Noi naturalmente Vogliamo che diventi la nostra fidanzata Braccia Braccia dimigamente Braccia amorevolmente Perché non esce Che di segno zodiacale Naturalmente ci sono sempre favorazzi Ritorno a noi Ritorno a noi Speciale Inguaribile romantico Flirta Flart Amoreggia È vergine Come segno zodiacale Ok Confessa di guardarti Mentre dorme Uh La vedo difficile Abbiamo così tanto in comune In vice Deve conoscerti meglio No Sussura nell'orecchio Romantico Butta di fra le braccia Inguaribile romantico Speriamo che Vada bene Abbraccia amorevolmente Ok Forse dobbiamo ancora far salire La barra Eh Neanche i fidanzati No Altro Flush Uh È normale Se non si accorgono di qualcosa Mentre Cioè Facciamo tutto questo poco Eh Le mani Romantico Romantico Speciale Inguaribile romantico Carezza alle guance Come facciamo a sposarci con questa donna Cioè A meno a convivere secondo me Dovrebbe essere un regalo Con festa e infideltà No Mai Lei è un regalo Chiedi di essere un inquilino No no di convivere però Eh Neanche Non esce Non esce proprio Che insieme Gli chiama Promozione di locale Ordino una bevanda nella sala Alla sala della prosperità Ok Accettiamo Mamma Siamo famosi Corribile romantico Guarda Negli occhi Ehm 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 Complimenti Confessi di guardarti mentre dormi Amichevole Neanche Ehm A convivere Vuole venire con questa signora Ehm 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 Perché non esce niente Perché C'è solo il fatto dei conquilini Ma Non mi interessa Perché poi se ne va Ehm Ehm Tu 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 fai una promessa Teni le mani Teni le mani Perché noi non siamo fidanzati Vero? Controlliamo bene Abbiamo solo la ex fidanzata Che a noi non ci interessa SMS Ehm Insultante amichevole No Romantico Ehm Non lo so Che possiamo fare? Fai promessa di buona protezione Eh Baccio per rivederci No Ancora Inguaribile romantico Niente Tieni le mani Particare una lista da bar Mai Ok Intanto andiamoci a prendere Urgi non ha bevanda Peggio Il sim Ehm 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 Che cosa ci prendiamo? Un rovescia tomba Ok Andiamoci Un Un bel drink Che può servirci Ops Che è successo? Ordina una bevanda Dove esce tomba? Cos'è questo nuovo bug adesso? Ordina del cibo Sì Va bene Ok Siediti Ne esce sempre una nuova Ne esce Ordina una bevanda Ok vediamo se c'è la porta Questa che si chiama Casa 9 alle ciliegie Ah no è Finito C'è il locale Secondo me Ok Siamo rimasti solo noi Vabbè Io direi che per Questo episodio è tutto ragazzi Arrivederci Veto Che Sì 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 Che